Dopo un periodo di stop, Nicola Minetti è tornata nei social network in una veste molto sexy. Infatti l'ex igienista dentale ha deciso di regalare a tutti i suoi followers una foto bollente, direi, scattata in reggio di seno di colore nero e occhiali da vista che le donano molto e la fanno apparire come una serietaria sexy. Tanti commenti da parte di molti maschietti che hanno apprezzato ovviamente la bellezza e la fisicità, le bidettoniche sode di Nicola Minetti, un Minetti che per l'appunto ha animato il suo profilo Instagram con queste foto sfuggendo un fisico veramente straordinario, pieno di fascino e sensualità. Vi ringrazio per l'ascolto, cari utenti di YouTube, per la visione del video termina qua, iscrivetevi, commentate e un saluto a tutti.